Fa caldo, fa caldo, fa caldo, fa caldo, c'è l'afa, ci sentiamo un po' giù tiriamoci su, come ci vogliamo tirare su? Adesso lo dico io pasta con stracciatella, pomodorino e basilico semplice, semplice, ma ti tiravo su con attimo quindi, pomodorini, questi io ho fatto così, crocettina, qua sotto al sederino, zack, così semplice, 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 semplice buttate qua dentro, contate un pochetto, fino a 10 fino a 10 perché? perché così si stacca la pelle dal pomodoro, eccola qui, perfetta allora, se lo teniamo di più che succede? Si stacca anche la polpa attaccata alla pelle quindi, così, facile facile e lo mettiamo qua dentro, insieme agli altri che già ho fatto quindi, stracciatella, pomodorini, parmigiano, aglio, basilico e questa bella pasta di campofilore adesso iniziamo proprio, è una stupitaggia, semplice, semplice qui proprio, dato che la pasta ci vuole un attimo a cuocersi con tre minuti, quindi ci abbiamo proprio purissimo tempo allora, come al solito gambi di basilico, qua poi, olio buono Agostino Sommariva Ligure, abbondante, fa bene l'olio quando è buono, quando è cattivo fa solo che male poi, aglio, guardate che aglio fantastico, bello mi hanno levato una treccia meravigliosa di aglio ecco, questi sono i cali belli una bella treccia d'aglio di quello buono da quando è come lo vedete? adesso, due spicchi d'aglio profumati ahhh che viene in mente la bruschetta quella con l'aglio strofinato, che bontà allora facciamo andare facciamo andare bello che si rosola bene l'aglio se volete potete anche aggiungere il cipollotto fresco poi, pomodorini una volta spellati, che facciamo? li tagliamo in due, va bene? così, dai facciamolo dorare bene dorare bene 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 perché, se no, non abbiamo il gusto e il sapore levo solamente i cambi di basilico poi, fuori dal fuoco ahhh che profumo l'aglio lo lascio, però, un po' che meraviglia, ragazzi il pomodoro non voglio che si dispa voglio che rimane il pezzettino il pezzettino di musica questa è una cosa romantica allora, a questo punto buttiamo queste buttiamo dentro l'acqua le linguine dell'Oro di Campopilone questa è una pasta fantastica lo ripiamo su, lo mettiamo sarà poca? esattamente un po' ripiamo un po' va bene, tanto condimento, va bene girata queste ci vogliono pochissimo tempo tre minuti e sono pronte io quasi quasi si piega si piega bene la metto qui dentro subito bella bagnata e levo gli spicchi d'aglio quindi uno andiamo a cercare quell'altro delinquente dove si è andato? vabbè lo troveremo, dai vado con l'altra pasta che musichetta, ragazzi da lacrima guarda la lacrima poi basilico facile 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 eh oggi lo giochiamo facile però ci vediamo subito strappato con le mani mi raccomando poi un po' d'acqua così eccoci qua e ma adesso siete proprio siete innamorati del pomodoro la linguina del Campopilone che si innamora del pomodoro sale pepe nero qui ci va bene ci sta proprio benissimo sentiamo un po' io spengo tutto spengo tutto e adesso? adesso un po' di raggio ce lo mette poco poco ce lo mette così poco eh non vi fate ingannare perché questa gonfia 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 quando gratta il rumore ci sta ecco quello spicchio d'aglio l'ho visto l'ho visto ecco qua questo è l'aglio che avevo perso buona adesso piatto piatto pronto mamma mia che bontà non tanto parmigiano non tanto parmigiano ti raccomando eh facciamo una cosetta delicata carina romantica no? poca poca perché di solito mangiano poco le donne vai pomodorino senti musichetta mamma mia top eh top della musica perché l'ho messa qui? perché sono fila tutta questa è la stracciatella beccate qui guardate che roba guardate che robetta mamma mia che spettacoli eh così piano piano si stipidisce la nostra stracciatella io guarda guarda che sono un malvagio aspettate un altro tuo motorino senti la musichetta un gocce di olio per finire questo è un altro vaga così mamma mia ecco qua vai e mo e mo l'assaggio così io aspettate un attimo questo è quello bello e poi quello da meno bello però altrettanto buono l'assaggio io che buon tagliere guarda qua guardate qua perché voi dovete fare così quando dentro al piatto poi fate così così non fila la stracciatella e assaggiate guardate che diventa cremosetto bello così guardate che robetta niente guarda guarda che bello guarda che bontà ragazzi vedete guarda qui spettacolare mmm 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 vi è piaciuto questo video? certo che sì era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like oh e damosela mostra questi like un bacio e un abbraccio a tutti si mua mi fa impazzire mi fa impazzire mi fa impazzire